Scaffalli d'argento nei supermercati. Lo auspicano i medici della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria riuniti in occasione di un convegno sul tema La Nuova Vecchiaia, un bersaglio mobile tenutosi al Campidoglio o a Roma. Gli scaffali d'argento, ha spiegato Niccolò Marchionni, docente di geriatria all'Università degli Studi di Firenze, dovrebbero essere dedicati in particolare agli anziani meno abbienti che sono più facilmente malnutriti, contenendo cibi fortificati con calcio e vitamina D, supplementi di aminoacidi essenziali per aumentare la forza muscolare, pesce azzurro, proteine poco costose ma complete come le uova, molti legumi come fonte di calcio, frutta e verdura di stagione e non costose primizie. La piramide alimentare, ha spiegato il presidente della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria, dopo i 70 anni di età cambia e l'area dei supermercati dedicata a questa fascia di età dovrebbe mostrare dei cartelloni esplicativi sul tipo migliore di alimentazione da seguire, permettendo di fare una spesa completa per colazione, pranzo e cena, spendendo in media 15 euro al giorno.